I messicani sono un popolo che sorprende con una grande capacità di fare festa nonostante le tragedie vissute. Il mio sogno ora è andare in Cina. La comprensibile stanchezza per gli intensi giorni trascorsi in Messico non ha impedito dalla tradizionale conferenza stampa in volo. Rispondendo a 12 domande Papa Francesco ha toccato svariati argomenti, dall'incontro fraterno a Cuba con il patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia, alla guerra in Ucraina con l'auspicio che gli accordi di Minsk vadano avanti. Dal virus Zika all'Unione Europea che dovrebbe essere una mamma piuttosto che una nonna e dovrebbe rifondarsi. In un'ora di conversazione il Pontefice si è soffermato anche sul tema dei divorziati e risposati, ribadendo che bisogna reintegrare nella Chiesa le famiglie ferite e che la preparazione al matrimonio è molto importante. Spazio anche al ruolo delle donne che danno tanta ricchezza, detto, e possono fare un gran bene nella Chiesa. Grazie. Grazie. Grazie.